Pirandello Le sorprese della scienza Avevo ben capito che l'amico Tucci, nell'invitarmi con quelle sue calorose e pressanti lettere a passare l'estate a Milocca, in fondo non desiderava tanto di procurare un piacere a me, quanto a se stesso il gusto di farmi restare a bocca aperta, mostrandomi ciò che aveva saputo fare, con molto coraggio, in tanti anni di infaticabile operosità. Aveva preso a suo rischio e ventura certi terreni paludosi che ammorbavano quel paese e ne aveva fatto i campi più ubertosi di tutto il circondario. Un paradiso! Non mi faceva grazia, nelle sue lettere, di nessuno dei tanti palpiti che quella bonifica gli era costata e di nessuno dei tanti mezzi escogitati, dei tanti guai che gli erano diluviati, di nessuna delle tante lotte sostenute, lui solo contro Milocca tutta, lotte rusticane e lotte civili. Per invogliarmi forse maggiormente, nell'ultima lettera mi diceva, tra l'altro, che aveva preso in moglie una saggia massaia, massaia in tutto. Otto figliuoli in otto anni di matrimonio, due a un parto e un nono per via, che aveva anche la suocera in casa, bravissima donna che gli voleva un mondo di bene, e anche il suocero in casa, perla d'uomo, dotto latinista e mio sviscerato ammiratore. Sicuro! Perché la mia fama di scrittore era volata fino a Milocca, da che in un giornale si era letto non so che articolo che parlava di me ed un mio libro, dove c'era un uomo che moriva due volte. Leggendo quell'articolo di giornale, l'amico Tucci si era ricordato d'un tratto che noi eravamo stati compagni di scuola tant'anni, al liceo e all'università, e aveva parlato entusiasticamente del mio straordinario ingegno a suo suocero, il quale subito si era fatto venire il libro di cui quel giornale parlava. Ebbene, confesso che proprio quest'ultima notizia fu quella che mi vinse. Non capita facilmente agli scrittori italiani la fortuna di veder la faccia da bene d'uno dei tre o quattro acquirenti di qualche loro libro ben avventurato. Presi il treno e partii per Milocca. Otto ore buone di ferrovia e cinque di vettura. Ma piano con questa vettura. Cent'anni fa, non dico, sarà anche stata non molto vecchia. Forse qualche molla cent'anni fa doveva averla ancora, anche se tre o quattro razzi delle ruote davanti e cinque o sei di quelle di dietro erano già a torti di spago così come si vedevano adesso. Cuscini non ne parliamo. Là, sulla tavola nuda, e bisognava sedere in punta in punta per scansare il rischio che la carne rimanesse presa da qualche fessura, da che il legno correndo sganasciava tutto. Ma piano con questo correre. Doveva dirlo la bestia. E quella bestia lì non diceva nulla. S'aiutava persino col muso a camminare. Sì, centomila volte sì. Scambio dei piedi. Voleva metterci le froge per terra, come ce ne metteva. Povera decrepita rozza. Tanto gli zoccoli sferrati le facevano male. E quel boia di vettura turino intanto aveva il coraggio di dire che bisognava saperla guidare, lasciarla andare col suo verso, lasciarla andare col suo verso, perché ombrava, ombrava, e a frustarla, ritta gli si levava come una lepre, certe volte, quella bestiaccia lì. E che strade! Non posso dire di averla proprio veduta bene tutta quanta, perché in certi precipizi vedi piuttosto la morte con gli occhi. ma c'erano poi le peltate che me la lasciavano ammirare per tutta un'eternità, tra i cigolì del legno e i soffi di quella rozza sfiancata che accorava. Da quanti mai secoli non era stata più riattata quella strada? Il pan delle vetture è il brecciale, mi spiegò il vetturino, se lo mangiano con le ruote. Quando manchi il brecciale si mangiano la strada. Se l'erano mangiata bene, oh, quella strada. Certi solchi che a infilarli, non dico ci s'andava meglio che in un binario. Da non muoversene più, però, badiamo. Ma a cascarci dentro per uno spaglio della bestia, si ribaltava come vero Dio. Ed era grazia cavarne sano l'osso del collo. Ma perché le lasciano così senza pane le vetture a Milocca? Domandai. Perché? Perché c'è il progetto? Mi rispose il vetturino. Il? Progetto? Sì, signore. Anzi, tanti progetti ci sono. C'è chi vuol portare la via ferrata fino a Milocca, e chi dice il tram e chi l'automobile. Insomma, si studia. Ecco, per poi riparare come faccia meglio al caso. E intanto? Intanto io mi privo di comprare un altro legno e un'altra bestia, perché capirà se mettono il treno o il tram o l'automobile. Posso fischiare. Arrivai a Milocca a sera chiusa. Non vedi nulla, perché secondo il calendario doveva esserci la luna quella sera. La luna non c'era. I lampioni a petrolio non erano stati accesi, e dunque non ci si vedeva neanche a tirar moccoli. Villatucci era circa mezz'ora dal paese, ma o che la rozza veramente non ne potesse più, o che avesse fiutato la rimessa lì, vicina, come diceva sacrando il vetturino, il fatto è che non volle più andare avanti, nemmeno d'un passo. E non seppi darle torto, io. Dopo cinque ore di compagnia, m'ero quasi medesimato con quella bestia. Non avrei voluto più andare avanti neanch'io. Pensavo. Chissà, dopo tanti anni, come ritroverò, merigotucci. Già me lo ricordo così, in nebbia. Pissà come sarà abbrutito, a furia di battere la testa contro le dure e stupide realtà quotidiane di una meschina vita provinciale. Da compagno di scuola egli mi ammirava, ma ora vuole essere ammirato lui da me, perché, buttatevi ai libri, si è arricchito. Mentre io, là, potrò figurarmi, mentre io, là, potrò farmi giulebare dal suocero, dotto latinista, il quale, figuriamoci, mi farà scontare a sudore di sangue le tre dirette spese per il mio libro. E otto marmocchi, poi. E la suocera, Dio immortale. E la nuora, buona massaia. È questo paese che Tucci mi ha decantato ricchissimo e che intanto si fa trovare buio, dopo quella stradaccia lì e questo legnetto qua, per accogliere gli ospiti. Dove sono venuto a cacciarmi? Mentre mi passevo comodamente di queste dolci riflessioni, la rossa, piantata lì sui quattro stinchi, si passeva a sua volta ad una tempesta di frustate, imperturbabilmente. Alla fine il vetturino, stanco morto di quella sua gran fatica, disperato e furibondo, mi propose di andare a piedi. È qui vicino. La valigia gliela porto io. E andiamo su, scranchiamo le gambe, disse io, smontando. Ma la via è buona almeno? Con questo buio. Lei non tema. Andrò io avanti. Lei mi terrà dietro, piano piano, con giudizio. Fortuna che era buio. Quel chiocchio non vede, cuore non crede. Quando però il giorno dopo vidi quell'altra strada lì, restai basito, non tanto perché c'ero passato, quanto per il pensiero che, se Dio misericordioso aveva permesso che non ci lasciassi la pelle, chissà, chissà quali terribili prove vuol dire che m'ha predestinato. Fu così forte l'impressione che mi fece quella strada, e poi l'aspetto di quel paese, squallido, nudo, in desolato abbandono, come dopo un saccheggio o un orrendo cataclisma, senza vie, senza acqua, senza luce, che la villa dell'amico mio e l'accoglienza che gli mi fece con tutti i suoi e l'ammirazione del suocero, e via dicendo, mi parlero rose a confronto. — Ma come? — disse Altucci. — Questo è il paese ricco e felice, tra i più ricchi e felici del mondo. E Tucci, socchiudendo gli occhi, questo, e te ne accorgerai. Mi venne di prenderlo a schiaffi. Perché non sarà mica incretinito quel pezzo domaccione là? Pareva anzi che l'ingegno naturale, con la lacrità e l'esperienza della vita, nelle dure lotte contro la terra e gli uomini, gli si fosse ingagliardito e acceso, e gli sfolgorava dagli occhi ridenti, da cui io, sciupato e immalinconito dalle vane brighe della città, roso dalle artificiose assidue cure intellettuali. Mi sentivo commiserato ed eriso a un tempo. Ma se addonta delle mie perversioni, dovevo riconoscere lui, Merigo Tucci, degno veramente d'ammirazione. Quel paese attaccio, no e poi no, per Dio, ricco, felice. — Mi canzoni? gli gridai. — Non avete neanche acqua per bere e per lavarvi la faccia, case da abitare, strade per camminare, luce la sera per vedere dove andate a rompervi il collo. E siete ricchi e felici? Varà. Ho capito, sai, la solita retorica, la ricchezza e la felicità nella beata ignoranza. È vero? Vuoi dirmi questo? — No, al contrario, mi rispose Merigo Tucci con un sorriso, opponendo studiatamente alla mia stizza altrettanta calma. Nella scienza, caro mio, la felicità nostra è fondata nella scienza più occhialuta che abbia mai soccorso la povera industria e umanità. Oh sì, staremmo freschi veramente se fossero ignoranti i nostri amministratori. Tu mi insegni che salvaguardia può essere più l'ignoranza in tempi come i nostri. Promettimi che non mi domanderai più nulla fino a questa sera. Ti farò assistere a una seduta del nostro consiglio comunale. Appunto questa sera si discuterà una questione di capitalissima importanza, l'illuminazione del paese. Tu avrai, dalle cose stesse che vedrai e sentirai, la dimostrazione più chiara e più convincente di quanto ti ho detto. Intanto la ricchezza nostra è nelle meravigliose cascate di chiarenza che ti farò vedere e nelle terre che sono, grazie a Dio, così fertili che ci dan tre raccolti all'anno. Ora vedrai, vieni con me. Passò tutto. Mi sobbarcai a tutto. Mi sorbì come decottini a digiuno tutti gli spassi e le distrazioni della giornata, col pensiero fisso alla dimostrazione che dovevo avere quella sera al municipio della ricchezza e della felicità di Milocca. Tucci, ad esempio, mi fece visitare, palmo per palmo, i suoi campi? Gli sorrisi. Mi fece una nuova e più diffusa spiegazione della sua grande impresa, lì, sui luoghi? Gli sorrisi. È davvero l'impeto delle correnti? Aveva sgrottato tutte le terre e a lui era toccato asciugar e rialzar le campagne, corredandole della belletta, del grassume prezioso? Sì? Davvero? Che piacere! I sorrisi. Ma far la roba è niente. A governarla ti voglio. E dunque gli olivi si governano ogni tre anni con tre o quattro corbelli di sugo sostanzioso. Pecorino? Sì? Davvero? Che piacere! E gli sorrisi anche quando in cantina, con un'aria da Carlo Magno, mi mostrò quattro lunghe andane di botti. E anche lì mi spiegò come valga più saper governare il tino che la botte, e come egli facesse più colorito il vino, e come gli accrescesse forza e corpo, mescolandovi certe qualità dove scelte, spicciolate, ammostate da sé, senza mai erbe, mai foglie di sambuco o di tiglio, mai tannino o gesso o catrame. E sorrisi anche quando, più morto che vivo, rientrai in villa, e mi vidi venire incontro la tribù dei marmocchi in processione, i quali, mostrandomi i rotti giocattoli che avevo loro donati la sera avanti, mi domandavano, con un lungo strascicato lamento, uno dopo l'altro, tra lacrime senza fine, perché questo m'hai portato? Perché questo m'hai portato? Carini, carini, carini! E sorrisi anche al suocero, mio ammiratore, il quale, sì signori, era cieco, cieco da circa dieci anni, ed il mio libro non conosceva che qualche paginetta che il genero gli aveva potuto leggere di sera, dopo cena. Voleva egli ora che glielo leggessi io, il mio libro? Ma subito, e fu una vera fortuna per lui che non potesse vedere il mio sorriso, e tutti quegli che gli porsi poi, ogni qualvolta il bravuomo, che era straordinariamente erudito, mi interrompeva nella lettura. Oh, quasi a ogni rigo, per domandarmi con buona grazia, se non credessi per avventura, che avrei fatto meglio a usare un'altra parola invece di quella che avevo usata, o un'altra frase, o un altro costrutto, perché Daniello Bartoli, sicuro, Daniello Bartoli. Finalmente arrivò la sera. Ero vivo ancora, e non avrei saputo dir come, ma vivo, e potevo avere la famosa dimostrazione che Tucci mi aveva promesso. Andammo insieme al municipio per la seduta del consiglio comunale. Era come la maestra e donna di tutte le case del paese, la più squallida e la più scura. Una catapecchia grave in uno spiazzo sterposo, con in mezzo un fosco cisternone abbandonato. Vi si saliva per una scalaccia buia, intanfata d'umido, stenebrata, ma la pena da due tisici lumini filanti, di quelli con le spere di latta, appiccicati al muro quasi per far vedere come ornati di stucco, no, per dir la verità non ce ne fossero, ma gromme di muffa, sì, e tante. Saliva con noi una moltitudine di gente, attirata dalla discussione di gran momento che doveva svolgersi quella sera. Saliva con un contegno, anzi con un cipiglio, che doveva per forza meravigliare uno come me, abituato a non vedere mai prendere sul serio le sedute d'un consiglio comunale. La meraviglia mi era poi accresciuta dall'aria, dall'aspetto di quella gente, che non mi pareva affatto così sciocca da doversi con tanta facilità contentare d'essere trattata com'era, cioè a modo di cani dal municipio. Tucci fermò per la scala un tozzo maciotto aggrondato, barbuto rossigno, che evidentemente non voleva essere distratto dai pensieri che lo gonfiavano. Zagardi, ti presento l'amico mio, e disse il mio nome. Quegli gli si voltò di malagrazia e rispose appena, con un grugnito, alla presentazione. Poi mi domandò a bruciapelo, scusi, com'è illuminata la sua città? A luce elettrica, risposi, e lui, cupo, le ha compiango, sentirà stasera. Scusi, ho fretta. E via, abbalzi per il resto della scala. Sentirai, mi ripetei Tucci stringendomi il braccio. È formidabile, eloquenza mordace e ruente. Sentirai. E intanto hai coraggio di compiangermi? Avrà le sue ragioni. Su, su, affrettiamoci, o non troveremo più posto. La Mastra Sala, la Sala del Consiglio, rischiarata da altri lumini a cui quelli della scala avevano ben poco da invidiare, pareva un'aula di pretura delle più sudice e polverose. I banchi dei consiglieri e le poltrone di cuoio erano della più venerabile antichità, ma a considerarli bene nelle loro relazioni con quelli che tra poco avrebbero preso posto in essi e che ora passeggiavano per la Sala, assorti taciturni, ispidi come tanti coccomerelli selvatici pronti a schizzare a un minimo urto il loro sugo purgativo. Pareva che non per gli anni si fossero logorati così, ma per la cura cubamente austera del pubblico bene, per i pensieri irroditori che in loro naturalmente erano divenuti tarli. Tucci mi mostrò e mi nominò a dito i consiglieri più autorevoli. Lansatti, tra i giovani, rivale dello Zagardi. Pozzo e barbuto anche lui, ma Bruno. Il Colacci, vecchio gigantesco, calvo sbarbato dalla pingue di Nefloscia. Il Maganza, bell'uomo, militarmente impostato, che guardava tutti con rigidezza sdegnosa. Ecco, ecco il sindaco, in ritardo. — Quello? Sì, Anselmo Placci, tondo, biondo, rubicondo. Quel sindaco stonava. — Non stona, vedrai, mi disse Tucci. È il sindaco che ci vuole. Nessuno lo salutava. Solo il colace, gigantesco, gli si accostò per battergli forte la mano sulla spalla. Egli sorrise, corse a prender posto sul suo seggio, asciugandosi il sudore. E sonò il campanello, mentre il capuciere gli porgeva la nota dei consiglieri presenti. Non mancava nessuno. Il segretario, senza rispettar l'ordine, aveva preso a leggere il verbale della seduta precedente, che doveva essere redatto con la più scrupolosa dirigenza, perché i consiglieri, che lo ascoltavano accigliati, approvavano di tratto in tratto col capo, e infine non trovarono nulla da ridire. Prestai ascolto anch'io a quel verbale, volgendomi ogni tanto, smarrito e sgomento, a guardare l'amico Tucci. A proposito delle strade di Milocchia, si parlava come niente di Londra, di Parigi, di Berlino, di New York, di Chicago, in quel verbale, e saltavano fuori i nomi di illustri scienziati d'ogni nazione, e calcoli complicatissimi e astrusissime disquisizioni, per cui i capelli del magro, pallido segretario, mi pareva si ritraessero verso la nuca, man mano che gli leggeva, e che la fronte gli crescesse mostruosamente. Intanto due o tre usceri, zitti zitti in punta di piedi, recavano a questo e a quel banco pile enormi di libri e grossi incartamenti. Nessuno ha da fare osservazioni al verbale? domandò alla fine il sindaco, stropicciandosi le mani paffutelle e guardando in giro. Allora si intende approvato. L'ordine del giorno reca discussione del progetto presentato dalla Giunta per un impianto idrotermoelettrico nel comune di Milocca. Signori consiglieri, voi conoscete già questo progetto e avete avuto tutto il tempo ad esaminarlo e di studiarlo in ogni sua parte. Prima di aprire la discussione, consentite che io, anche a nome dei colleghi della Giunta, dichiari che noi abbiamo fatto di tutto per risolvere nel minor tempo e nel modo che ci è sembrato più conveniente, sia per il decoro e per il vantaggio del paese, sia rispetto alle condizioni economiche del nostro comune, il gravissimo problema dell'illuminazione. Aspettiamo dunque fiduciosi e sereni il vostro giudizio, che sarà equo, certamente, e vi promettiamo fin d'ora che accoglieremo ben volentieri tutti quei consigli, tutte quelle modificazioni che a voi piacerà di proporre, ispirandovi come noi al bene e alla prosperità del nostro paese. Nessun segno d'approvazione. Si levò per prima a parlare il consigliere Maganza, quello dell'impostatura militaresca, premise che sarebbe stato brevissimo, al solito suo, tanto più che per distruggere e atterrare quel fantastico edificio di carta pesta, che era il progetto della Giunta, poche parole sarebbero bastate, poche parole e qualche cifra. E punto per punto il consigliere Maganza si mise a criticare il progetto, con straordinaria lucidità di idee e parola acuta, incisiva. Il complesso dei lavori e delle spese, la sanzione che si doveva dare per l'acquisto della concessione dell'acqua di chiarenza, i rischi gravissimi a cui sarebbe andato incontro il municipio, il rischio della costruzione e il rischio dell'esercizio, l'insufficienza della somma preventivata, che saltava agli occhi di tutti coloro che avevano fatto impianti meccanici e sapevano come fosse impossibile contenerle spese nei limiti dei preventivi, specialmente quando questi preventivi erano fatti sopra progetti di massima e con l'evidente proposito di far apparir piccola la spesa. Il carattere impegnativo che aveva l'offerta dell'accollatario, fermi restando i dati sui quali l'offerta medesima era fondata, dati che per forza il consiglio avrebbe dovuto alterare con varianti aggiunte ai lavori idraulici, con varianti aggiunte agli impianti meccanici e ciò oltre a tutti i casi imprevisti e imprevedibili di forza maggiore e a tutte le accidentalità, incagli, in toppi che certamente non sarebbero mancati. Come puoi fare a punti particolarezzati senza avere a disposizione i disegni d'esecuzione e i dati necessari. Eppure due enormi lacune apparivano già evidentissime nel progetto. Nessuna somma per le spese generali, mentre ognuno comprendeva che non si potevano eseguire lavori così grandiosi, così estesi, così vari e delicati, senza gravi spese di direzione e di sorveglianza e spese legali e amministrative. E l'altra lacuna ben più vasta e profonda. La riserva termica, che in principio la giunta sosteneva non necessaria e che poi finalmente ammetteva. E qui il consigliere Maganza, con l'aiuto dei libri che gli avevano recati gli usceri, si sprofondò in un'intricatissima, minuziosa computazione scientifica, parlando della forza delle torrenti e delle cascate, e di prese e di canali e di condotte forzate e di macchinari e di condotte elettriche e delle relazioni da stabilire tra riserva termica e forza idraulica, oltre la riserva degli accumulatori. Citando la società Edison di Milano e l'Alta Italia di Torino, e ciò che per simili impianti sarà fatto a Vienna, a Pietroburgo, a Berlino. Eran passate circa due ore, e il brevissimo discorso non accennava ancora di finire. Il pubblico stipato pendeva dalle labbra dell'oratore, per nulla oppresso da tanta copia d'irta, spaventevole erudizione. Io quasi non tiravo più il fiato, eppure lo stupore mi teneva lì, con gli occhi sbarrati e a bocca aperta. Ma alla fine, il Maganza, mentre il pubblico si agitava, non già per sollievo, anzi per viva ammirazione, concluse così. La dura esperienza in altre città, o signori, ha purtroppo dimostrato che gli impianti idrotermoelettrici sono della massima difficoltà e serbano dolorosissime sorprese. Nessuno può far miracoli, e tantomeno, sulle base di un così fatto progetto, potrà farne il municipio di Milocca. Scoppiarono frenetici applausi, e il consigliere Ansatti si precipitò dal suo banco ad abbracciare e baciare il Maganza, poi, rivolto al pubblico, ritornando man mano al suo posto, prese a gridare tutto infuocato, con violenti gesti. Si osa proporre, o signori, oggi, oggi, come se noi ci trovassimo dieci o vent'anni addietro, al tempo di Galileo Ferraris, si osa proporre un impianto idrotermoelettrico a Milocca. Ah, come mi metterei a ridere se potesse parermi uno scherzo. Ma coi denari dei contribuenti, o signori della giunta, non è lecito scherzare, ed io non rido. Io mi infiammo, anzi, di sdegno, un impianto idrotermoelettrico a Milocca, quando già spunta sull'orizzonte scientifico la gloria consacrata di Pictet. Non vi farò il torto di credere, o signori, che voi ignoriate chi sia l'illustre professor Pictet, colui che con un processo di produzione economica dell'ossigeno industriale prepara una memoranda rivoluzione nel mondo della scienza, della tecnica e dell'industria, una rivoluzione che sconvolgerà tutto il macchinismo della vita moderna, sostituendo questo nuovo elemento di luce e di calore a tutti quelli di potenza molto minore che finora sono in uso. E con questo tono e con crescente fuoco il consigliere Ansatti spiegò al pubblico attonito e affascinato la scoperta del Pictet, e come col sistema da lui inventato, le fiamme del reticelle Auer sarebbero arrivate alle altissime temperature di 3000 gradi, aumentando di ben 20 volte la loro luminosità. E come la luce così ottenuta sarebbe stata, a differenza di tutte le altre, molto simile a quella solare. E che se poi al posto del gas si fosse messa un'altra miscela derivante da un trattamento del carbon fossile col vapore acqueo e l'ossigeno industriale, il potere calorifico sarebbe aumentato di altre sei volte. Mentre gli spiegava questi prodigi, il consigliere Zagardi, suo rivale, quello che mi aveva compianto per la scala, sogghignava sotto sotto. Ansatti se ne accorsa e gli gridò «C'è poco da sogghignare, collega Zagardi, dico e sostengo di altre sei volte, c'ho qui i libri, te lo dimostrerò». E glielo dimostrò, infatti. E alla fine, balzando da quella terribile dimostrazione più vivo e più infocato di prima, concluse, rivolto alla giunta. «Ora in quali condizioni, o ciechi amministratori, in quali condizioni di inferiorità si troverebbero il municipio e il paese di Milocca, con i loro miserabili mille cavalli di forza elettrica, quando questo enorme rivolgimento sarà nell'industria e nella vita un fatto compiuto». «Scusami», disse io piano all'amico Tucci, mentre gli applausi scrociavano nella sala con tale impeto che il tetto pareva ne dovesse subissare. «Levami un dubbio, non è intanto al buio il paese di Milocca?» Ma Tucci non volle rispondermi. «Zitto, zitto! Ecco che parla Zagardi, sta a sentire!» Il tozzo maciotto barbuto sarà infatti levato, col sogghigno ancora sulle labbra, torcendosi sul mento con gesto dispettoso, il rosso pelo ricciuto. «Ho sogghignato», disse, «e sogghigno, collega Ansatti, nel vederti così tutto fiammante d'ossigeno industriale, paladino caloroso del professor Piltet. Ho sogghignato e sogghigno, collega Ansatti, non tanto di sdegno quanto di dolore nel vedere come tu. così accorto, tu, giovane e vicile bracco della scienza, ti sia fermato alla nuova scoperta di quel professore francese e abbagliato dalla luce venti volt cresciuta delle reticelle Auer, non abbia veduto un più recente sistema d'illuminazione che il municipio di Parigi va sperimentando per farne poi l'applicazione generale nella fillumière. «Io dico il lusol, collega Ansatti, e non gli scioglierò inni in gloria della nuova scoperta, perché non con gli inni si fanno le rivoluzioni nel campo della scienza, della tecnica e dell'industria, ma con calcoli riposati e rigorosi!» E qui lo Zagardi, non smettendo mai di tormentarsi sul mento la barbetta rossigna, piano piano, col suo fare mordace e dispettoso parlò della semplicità meravigliosa delle lampade all'usol, nelle quali il calore di combustione dello stoppino e la capillarità, bastavano a determinare senza alcun meccanismo l'accesa del liquido illuminante, la sua vaporizzazione e la sua mescolanza alla forte proporzione d'aria che rendeva la fiamma più viva e sfavillante di quella ottenuta con qualunque altro sistema. E per un miserabilissimo centesimo si sarebbe ormai avuta la stessa luce che si aveva a quattro o cinque centesimi col vile petrolio, a otto o dieci con l'ambiziosa elettricità, a quindici o venti col pacifico olio, e l'usol non richiedeva né costruzioni di officine, né impianti, né canalizzazioni. Non aveva egli dunque ragione di sogghignare? O fosse per la tempesta suscitata nella poca aria della sala dalle deliranti acclamazioni e dai battivani del pubblico, o fosse per la mancanza d'alimento, essendosi la seduta già protratta oltre ogni previsione, il fatto è che, alla fine del discorso dello Zagardi, i lumi si abbassarono di tanto e si era quasi al buio quando sorse per ultimo a parlare il Colacci, il vecchio gigantesco dalla pinguedine floscia. Ma ecco, prima un uscere e poi un altro, e poi un terzo, entrarono come fantasmi nell'aula, raggendo ciascuna una candela stearica. L'aspettazione nel pubblico era intensa, indimenticabile la scena che offriva quella tetra sala affollata, nella semioscurità, con quelle tre candele accese presso il vecchio gigantesco, che con ampi gesti e voce tonante magnificava la scienza, seconda madre di luce inestinguibile, produttrice inesauribile di sempre nuove energie e di più splendida vita. Dopo le scoperte mirabili di cui avevano parlato l'ansatti e lo Zagardi, era più possibile sostenere l'impianto idrotermoelettrico proposto dalla giunta, che figura avrebbe fatto il paese di Milocca illuminato soltanto a luce elettrica. Questo era il tempo delle grandi scoperte, e ogni amministrazione che avesse veramente a cuore il decoro del paese e il bene dei cittadini doveva stare in guardia dalle sorprese continue della scienza. Il consigliere Colazzi, pertanto, sicuro di interpretare i voti del buon popolo milocchese e di tutti i colleghi consiglieri, proponeva la sospensiva sul progetto della giunta in vista dei nuovi studi e delle nuove scoperte che avrebbero finalmente dato la luce al paese di Milocca. — Hai capito? mi domandò Tucci, uscendo poco dopo nelle tenebre dello spiazzo sterposo innanzi al municipio. E così per l'acqua, e così per le strade, e così per tutto. Da una ventina d'anni il Colazzi si alza a ogni fine di seduta per inneggiare alla scienza, per inneggiare alla luce, mentre i lumi si spengono, e propone la sospensiva su ogni progetto, in vista di nuovi studi e di nuove scoperte. Così noi siamo salvi, amico mio. Tu puoi star sicuro che la scienza, a Milocca, non entrerà mai. Se l'hai una scatola di fiammiferi, cavala fuori e fatti lume da te.